Signori, bentornati in un nuovo video Flash. Si torna a parlare di Flash & Blood. Novembre sarà per il gioco neozelandese un mese davvero unico. Già, perché non solo il nuovo set, chiamato Destiny, arriverà sui tavoli da gioco il prossimo 11 novembre, aggiungendo 247 nuove carte al già numeroso arsenale a disposizione dei combattenti su Raid, ma ci sarà l'evento che consacrerà Flash a TCG che ha tutte le intenzioni di restare e non essere una meteora. A partire dal 3 fino al 6, sempre del prossimo mese infatti, in California, Stati Uniti, ci sarà il primo campionato mondiale di FAB che incoronerà ed insegnerà il vincitore del titolo iridato, il primo per quanto riguarderà questo gioco di carte collezionabili. So che è da un bel po' che non tratto argomenti riguardanti la creazione della LSS sul canale. Diciamo che sono stato preso, e lo sono tuttora, da progetti al quale sto lavorando a stretto contatto con esperti del settore e professionisti di ogni genere, e mi auguro che entro l'inizio dell'anno prossimo tutto sarà pronto per rendervi partecipi di queste magnifiche novità. Tornando a FAB, credo che sia un TCG davvero ben strutturato e volto a dare sempre il meglio di sé, implementando con costanza la sua dinamica di gioco, che sono sicuro riserverà grandi sorprese ad ogni espansione e nuovo prodotto che verranno pubblicizzati e commercializzati in futuro. Quindi personalmente do piena fiducia al progetto Flesh & Blood, che, ricordiamo, ha compiuto da poco i tre anni di vita, e che ancora si trova in fase di startup, ma che è già proiettato a grandi obiettivi, come se fosse un GCC con venti e più anni di esperienza alle spalle. Come sempre, la leggenda ha saputo muoversi, ed aspetto con ansia i nuovi sviluppi, così da poterne parlare con tutti voi qui sul canale attraverso dei contenuti dedicati. Per quanto riguarda tutte le notizie appena menzionate, ovvero il nuovo set ed il mondiale, come sempre vi lascerò i link in descrizione, così che potrete da voi dare uno sguardo più approfondito al fantastico mese di novembre che attenderà ogni combattente, veterano o principiante intento a combattere nelle numerose arene sparse su tutta Raid. E voi, cosa ne pensate di questi sviluppi riguardanti il titolo della casa neozelandese? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.